buonasera brutto pezzo di camperista questo è Morkenstein e invece là dietro c'è un LT31 di due ragazzi svizzeri che sono appena tornati dalla Turchia e precedentemente dall'Armenia e dalla Georgia una serata insieme a viaggiatori questo è quello che ci piace di più un bel barbecue che adesso ti faccio vedere ecco la mughera hello e il barbecue siamo poco fuori Sofia sul lago di Pancerevo sono arrivati questi ragazzi con l'RT e si sono messi subito a chiacchierare da buon Volkswagen Friends e c'è uno grosso scambio di informazioni perché loro vengono dai posti dove noi stiamo andando e loro vogliono andare nei luoghi dove noi siamo già stati esempio la Sicilia e quindi queste sono le serate più belle quelle di condivisione di esperienze di viaggio suggerimenti consigli ciao bello